dall'estero è sempre guerra nelle repubbliche della ex jugoslavia di bosnia erzegovina e croazia sarajevo nella prima mattinata raffiche di armi automatiche hanno svegliato la città combattimenti e scontri in tutta la repubblica alcune città sono accerchiate dai serbo federali e i profughi stanno abbandonando in massa i centri abitati una colonna di carri federali è stata avvistata mentre si dirigeva verso slavonski brod dove sono in corso bombardamenti anche nella slavonia i mortai e le artiglierie delle forze di belgrado proseguono a sperare in particolare i cittadini di macubro e l'incorsi sono stati collegati Sarajevo a vent'anni dall'inizio Sarajevo a vent'anni Grazie a tutti